Ciao Martina, ben trovata su Almea Italia, come stai? Grazie mille intanto, tutto bene, grazie mille, un po' emozionata, agitata. Il 28 giugno uscirà il tuo nuovo EP al centro del panorama, ci parli un po' dell'idea dietro questo titolo e poi è anche il titolo del singolo. Esatto, allora, il centro del panorama è il titolo dell'ultimo singolo che è uscito, mi sembra, due settimane fa, no, tre settimane fa ormai. Ed è a un mood comunque un po' diverso rispetto a quello degli altri, perché è un po' più up, quindi un po' diverso rispetto a quello che ho fatto uscire durante il percorso ad amici. E quindi è nata pure l'idea di questo titolo, anche perché, come ho detto, è una cosa completamente diversa, mettiamola anche come il titolo dell'EP. E nulla, quindi è al centro del panorama, anche perché comunque in questo momento, cioè, come posso dire, nel centro del mio panorama c'è la musica. E parlando invece di un altro panorama, che è quello musicale italiano, quali sono gli artisti che poi hanno in qualche modo influenzato il tuo percorso all'interno della scuola di amici, ma anche quello precedente al tuo ingresso e quello di oggi? Allora, io sono un'amante della musica pop, soul, R&B, e quindi anche qui in Italia ascolto prettamente artisti che si avvicinano molto a quel mondo, uno fra tutti appunto Mengoni, e poi ascolto tanto anche Elita, cioè loro sono appunto dei punti di riferimento molto importanti, anche Noemi. E all'interno di queste pitch c'è una cover di Alessandra Amoroso, una delle tante cover che poi hai cantato durante il tuo percorso ad amici. Perché proprio questa? Allora, in realtà c'è tipo anche un aneddoto dietro a questa canzone, perché mi ricordo che io non la volevo proprio cantare, cioè nel senso, eravamo lì alle prove, quindi ognuno poteva scegliere comunque delle canzoni. Mi ricordo che io avevo proposto una canzone in inglese, e poi c'è stato, no guarda sta cantando troppo in inglese, prova a fare questa, e io non la volevo proprio fare. Poi alla fine mi hanno detto, se te la canti, pensando a quello che dici potrebbe venire qualcosa, e paradossalmente è stata una delle esibizioni che io ho sentito di più e che mi ha piaciuta di più. Quindi alla fine ho pensato, vedi, non è stata male come idea. E all'interno dell'EP ci sono anche due dei brani che hai presentato all'interno di Amici, da quando non ho smesso di amarti e niente come te. Se pensi un po' al tuo percorso all'interno della scuola, ai mesi che hai trascorso lì dentro, com'è il bilancio? Hai qualche rimpianto? Ma in realtà no, cioè nel senso ho fatto sempre quello che mi sono sentita di fare. Allora forse, cioè col senno di poi ovviamente, avrei fatto qualcosa in più a livello, comunque magari mi sarei buttata di più. Però poi nel complesso sono contenta proprio del percorso che ho fatto. E c'è invece un qualcosa che dici, brava Martina, brava che l'hai fatto, proprio lì che hai avuto magari anche il coraggio di farlo perché non era scontato? Allora, sicuramente staging, proprio a livelli estremi lì. E anche il fatto che arrivavo a un certo punto alle prove comunque che dovevamo fare in studio e dicevo, ok, questa coreografia è così, va bene, la posso fare, però la faccio scalza, tipo perché ho detto, se no non riesco a muovermi. Quindi era molto una cosa, ogni tanto anche istintiva, tipo guarda, la posso fare, però facciamo magari, facciamola così. Era molto bello. E c'è una lezione che magari ti è stata impartita dai vocal coach, piuttosto che poi dalla tua coach, che tuttora ti torna utile e che in qualche modo custodirai gelosamente. Allora, loro mi dicevano sempre, guarda, le emozioni sono belle, le devi abbracciare, le devi accogliere, non le devi respingere. Quindi erano tutte lezioni, quelle che facevo principalmente io, di interpretazioni, quindi. E c'erano, quindi andavamo ad analizzare proprio il testo, molto spesso, e quindi andavamo poi a cercare nel mio vissuto cosa mi faceva pensare, comunque dei ricordi che legate al testo. E c'è stata una canzone in particolare che io ho pianto, non si sa quanto, ogni volta che la cantavo a lezione piangevo. E quindi penso, forse quella volta cantavo proprio singhiozzando, che io dicevo, però così mi sembra pure una tortura cantare così con i singhiotti, però quella lì è stata una lezione che, poche lezioni ho fatto così, proprio un dico in generale nella mia vita. Parlando di panorama musicale, parlavamo di Elisa, di Marco Mengoni, di Alessandra Amoroso, ma le tue origini ci portano anche dall'altra parte del mondo, ci riportano in Brasile. Quel tipo di musica ha in qualche modo delle influenze poi sulla tua di musica? Allora, devo dire la verità, la musica brasiliana l'ascolto sì, però non è il mio punto di riferimento principale. Cioè, mi piacerebbe comunque fare anche qualcosa in portoghese, perché fa parte delle mie radici. Soprattutto la musica brasiliana che mi piace di più è appunto il samba. e quindi vorrei fare qualcosa in quel senso, ma in realtà mi ispira di più magari la musica statunitense, ecco. E parlando invece di origini, continuiamo un po' su questo filone, e di radici, no? Qual è il tuo primo ricordo legato alla musica? Mi sa... Aspetta, sto pensando... Forse lo sai il disco di Luna Pop, che i miei genitori avevano in macchina, e lo ascoltavamo tantissimo per andare a Nettuno, quando andavamo al mare. E quindi io mi ricordo che loro la mettevano lì in macchina, io mi mettevo a cantare con loro tutto il tempo, quindi le sapevo tutte a memoria le canzoni. E poi forse anche il mio primo osaggio, che ero... piccola, il primo osaggio proprio di canto. Uscita dalla scuola di amici, sei tornata un po' alla vita normale, senza telecamere. Una vita forse un po' più complessa, perché meno contenuta dentro quattro mura, ma una vita che a breve ti permetterà di incontrare poi le persone che ti hanno sostenuto durante il percorso. Come ti immagini un po' quel momento? Allora, in realtà io non vedo l'ora, perché il fatto è che, lo dico spesso, non si vede, ma ovviamente noi abbiamo anche tanti momenti proprio di demoralizzazione, quindi proprio in cui vediamo tutto nero e diciamo, ok, sto facendo la cosa giusta. quindi quando vediamo anche l'affetto delle altre persone, ma basta anche un semplice messaggio, dici, ok, va bene, posso andare avanti, lo posso fare, perché comunque c'è anche il supporto delle persone, che secondo me è una cosa fondamentale, altrimenti non si potrebbe fare questo. Allora, ti auguro buoni store, l'invito è sempre quello di ascoltare il tuo nuovo EP che uscirà venerdì 28, grazie ancora per il tuo tempo e buona musica. Grazie a te, grazie mille. Grazie mille.